Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi vlog, infatti vedete quanto sono bella Allora, mi sono già allenata, ho fatto ovviamente colazione e bla bla bla, infatti sono quasi che è l'una e mezza Sono quasi le due del pomeriggio, ho prezzato e nulla Ho fatto una bella camminata in campagna con mia sorella dove, cioè raga io sto veramente in campagna A un certo punto stavo dentro il bosco quindi al massimo potevo scambiare il coronavirus con i cinghiali Che ho, che sono veramente contenta di non aver incontrato Comunque oggi sto facendo questo vlog perché dopo due mesi rivedrò il mio ragazzo Mi verrà a trovare nel pomeriggio, sono veramente molto molto contenta Ripeto, io sto in campagna e ovviamente non usciremo né niente E niente, quindi ho voluto vloggare per ricordarmi questa giornata Vi faccio vedere il pranzo perché ve l'ho fatto la clip in cui ve lo faccio vedere Praticamente è semplicemente quinoa, un po' di miglio e verza cotta, sapete che io l'adoro Ok, quindi adesso, oh mio dio scusate, io adesso devo ancora andare a lavarmi Infatti sto ancora con la tuta E quindi adesso faccio la doccia e poi mi faccio un po' più carina Diciamoci però Sono uscita dalla doccia proprio adesso, come potete constatare Quindi niente, mi vado a sciacquare, cioè mi devo mettere il cosino, il panno per i capelli Io uso questo qua, il turbante, questo qui l'ho preso al Mauriz Molto buono, tra l'altro è morbidissimo E poi mi comincio a preparare E effettivamente non so come vestirmi, nel senso Cioè, non ha senso che magari m'acchitto, metto chissà che cosa per stare a casa fondamentalmente Ho pensato fosse inutile vestirmi se tanto dobbiamo stare a casa Quindi ho messo semplicemente la tuta E ho messo solo questo toppino che è un pochino più carino I pantaloni della tuta soliti che uso E questo qua, del giacchettino da Adidas E niente di che, insomma Come vedete, mi devo ancora sciacquare i capelli Adesso mi do una minima truccata, ma proprio un minimo Voglio fare anche questo trattamento qui Vi sto facendo un video a parte in cui vi faccio vedere meglio Questo è un kit che ho preso su Amazon un tempo fa Lo provo da un pochino, mi piace tanto Però, visto che ci sono, lo farò Quindi vi faccio vedere al volo Vado a vedere meglio nel dettaglio In un video Comunque vi mandano questo coso qui Che si attacca al telefono e ha diversi cavi Poi Qualche striscetta, queste qui Per i denti, tra l'altro potrei fare pure queste Queste funzionano bene Sapete, faccio una di queste Che funziona da dio Altrimenti do il trattamento a varie di queste qua Che si mettono sui denti Poi si applica la mascherina per almeno 15 minuti E nel corso del tempo vi si sbiancano i denti E si sbiancano tantissimo Già dopo due applicazioni Questo fatto da almeno 30 minuti Quindi non c'ho tempo Ok, faccio questo qui al volo Quindi metto questo qua E la mascherina Un attimo qui Faccio vedere questo si ruota E poi Il coso che esce Si mette direttamente sui denti Quindi Lo metto su tutti i denti E poi metto questo qua Vi faccio vedere E' arrivato Io sto ancora così Vabbè E' uguale Eccolo Un ladro Che bello Ma perché è dimagrito? Non lo so Bricchietto sei magro Attento Avvicinate Hai visto? Si C'ho le zampette fredde Cosa? Poi adatta la mia Così? Cosa? Eh ma buona Che molto E adesso finalmente Dopo tanto tempo Dopo tante proie Posso fare i pancake Dai stupido Quindi posso farci i pancake E il cappuccino Com'è la situazione? Guarda che carini Ti piacciono? Si Ma sono buoni Dai Che stupido Guarda quanto sono sufficiosi Questi che sono Questi sono brutti Facciamo una montagnetta Stai vedendo il bill Bellissimo A posto Ah molto professionale Certo A lei Mamma Che professionalità Ma tu quelli brutti Li prendo io Ah si? Ma tu ti vedo Quelli carini Passiamo Vabbè non è che tocca Riprenderele tutte Sennò qui Ma che accade il coniglio Dai Stupido Lo metto così Almeno si scioglie bene Stop Guarda qua Che dici? Che boh assaggio Eh assaggia Eh no Sono buoni Eni Sì Mi piacciono Brava Non hai scioggiato? Sì Non hai scioggiato Ecco Buoni Brava Eni Grazie C'hanno fame Quanti so? 8 Guarda questo Guarda questo nero E' visto Ecco qua Mi sono messo un pochino Più carina Ho messo questo completino Qui che utilizzavo Per fare Tennis Infatti qui sotto c'è C'è il pantalone E forse adesso Andiamo a giocare Un po' di fuori a palla Oggi lo mi sono truccata Mi sono potuta mettere Pure questo qui Elastico Qui un pochino Più carino Questo scrunchi Con il fiocco E niente Andiamo Non so se Si vede qualcosa Non c'è idea Adesso lo straccio Che vuoi giocare? Palla bene No No Il vestitino di Eni Con la sorpresa Quale sorpresa? Stupida E' il vestitino di Eni 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 Che vuoi giocare? dai ma dai che è solo un metro se c'è pure i piedi giocando a nascondino scusate però sono struccata quindi provo a muovermi 1 2 3 4 28 29 30 squenzio dove è andato aspetta aspetta prima vabbia conto l'acqua dietro questo bastardo qui ci mi devi aiuta ciao ivan se n'è andato penso che il vlog finirà qui però l'abbiamo già sostituito e quindi c'è quincy vero quincy eh si 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 ecco che è saltato subito sul letto appena potuto mi dai un bacino mi dai un bacino mi dai un bacino come no che sta a fare che c'è che succede da un bacino da un bacino un bacino mi dai un bacino ma che perfido che perfido ah però i gratti tu si cioè io te devo fare le coccole eh certo si vabbè vieni qua vieni qua che salutiamo vieni qua vieni qua vi ringrazio per la visione spero che il video vi sia piaciuto da me squenzio è tutto ci vediamo alla prossima ciao comunque ci ho sostituito subito ciao